The Sims 4 Vita da Genitori Almeno per un po' cioè nel senso almeno voglio arrivare all'episodio 10 perché ha avuto successo a differenza di The Sims 4 Vita da Vampiri Scusate The Sims 4 Vampiri questo ha avuto molto più successo quindi io direi che lo posso continuare fino all'episodio 10 e poi decidiamo Ovviamente nei commenti fatemi sapere appunto se pensate se sia giusto se vi piace il fatto che io continui questa serie oppure no E ovviamente potete mettere un like per indicarmi il vostro piacere che io continuo questa cosa Allora c'è il nostro Gunter che sta facendo i suoi bellissimi compiti doveva fare anche il progetto scolastico Ha aumentata la responsabilità io direi che possiamo piazzare Aspetta dove lo posso fare? Possiamo piazzare ecco il progetto scolastico qui e possiamo iniziare a lavorare attentamente La nostra Mila Manch nel frattempo le facciamo qui c'è la va ah c'è il gabinetto sì La facciamo fare questa cosa e giovedì vanno tra un'ora a scuola quindi penso che non riuscirà a completarlo Ovviamente aumenta però la responsabilità ragazzi e vi ricordo che in tutto questo sta aumentando la responsabilità E uno dei desideri di appunto l'unica cosa che ci manca appunto fa in modo che un figlio abbia un valore caratteriale Che gli consenta di ricevere un tratto ed è molto importante quindi magari aumentiamo Lui ha l'educazione e la responsabilità lui ha la responsabilità molto alta e il nostro Lucas invece non ha nulla di molto alto E va bene così diciamo ci proveremo comunque con Wolfgang o con Gunter Gunter Wolfgang tra l'altro si è svegliato ma andrà a scuola quindi io direi che possiamo andare qui Tanto ora vanno entrambi a scuola quindi finiamo il progetto lo continueremo poi e li facciamo andare entrambi a scuola Tra l'altro Gunter ha aumentato tanto la responsabilità la nostra Mila si è svegliata e va in bagno Quindi adoro penso che abbiamo ancora un paio di momenti per noi per la nostra caramila quindi io direi di farti anche la doccia E' un po' difficile per quanto riguarda i bambini scusate i bebè fargli fare diciamo i tratti perché poi combinano pasticci eccetera 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 Quindi è un po' più difficile fatemi sapere anche nei commenti se voi siete riusciti a dare un tratto al vostro al vostro bambino al vostro figlio qui Qui c'è un desiderio sprona Gunter lo faremo benissimo appunto fatemi sapere quale siete riusciti a fargli avere qui lui penso abbia fame Quindi io direi che con Mila dov'è il seggiolino possiamo dare cibo a Lucas e magari gli diamo dei cereali E poi visto che ci troviamo ripuliamo il tutto Lucas penso che crescerà anche a breve ragazzi eh A Lucas mancano tre giorni quindi diciamo che l'episodio 10 che diciamo io continuerò dopo questo episodio dopo l'episodio 5 Almeno che voi nei commenti non mi scriviate no ci fa cagare questa questa serie allora io lì la la toglierò a quel punto Ma spero di no perché a me piace un sacco mi sto anche affezionando a questa famiglia Che stavo dicendo? Ah e quindi dato che continuerò penso che vedremo anche Lucas crescere eh Il che è molto molta è una cosa che mi piace tantissimo Allora amore dato che lui mangia nel frattempo fai un pasto veloce anche te con dei cereali Sperando che Lucas si sta mangiando tranquillamente e vediamo se possiamo Genitorialità aiuta con i bisogni no sta facendo un po' di schifo credo lui Lei sta mangiando in piedi potresti anche mangiare con tuo figlio Ma che cazzarola sta succedendo? Non vogliamo fare nulla di tutto questo vogliamo goderci Maxis ha aggiunto i preferiti Living in Harmony guardiamola Dai bellissima mi piace un sacco Salvo Sì sì queste stanze sono veramente belle quelle che pubblica Maxis o robe del genere E vabbè relitti restaurant Ma no io volevo fare con lei con Mila Vediamo se Cutter Insegna a dire scusa bene tanto lui vediamo Ma non ci interessa è solo è singola Se fosse stata con dei bambini magari la inserivamo in questa cosa ma invece no Allora facciamo così Fai uscire Benissimo E poi ci occupiamo di Lucas È felice quindi possiamo insegnare a lui a parlare Tanto lui Ah e lui sta facendo anche il livello di comunicazione credo Deve fare la Pipì O la cacchina Chiediammi la Dell'aiuto per andare Lei deve andare a lavoro circa un'ora Ma no No non andrà mai a lavoro ragazzi Ok basta insegnare a parlare Chiedi aiuto per andare a fare la pli La plim plim Amore tu non andrai al lavoro Hai tre giorni di vacanza Quindi ora chiamiamo il nostro lavoro Prenditi un giorno di vacanza Wolfgang Ma invita la Elsa visto che ti trovi Gunther è di nuovo qui E deve dormire No amore vai a dormire vai Che stai dormendo in piedi Lui Deve farsi la doccia Ma c'è Elsa ragazzi Innanzitutto vediamo se ha portato Un progetto No Assolutamente no Va bene Guardati la tv Magari Elsa invita la Ad entrare Urla contro No amichevole Chiedi della sua giornata E magari poi vi guardate un film Insieme Con Elsa vai Qui cosa sta succedendo in tutto questo Scusate Lei dovrebbe Andare a lavoro Ma lui ha finito di Loro che si litigano ad oro Prima la invita a casa E poi si litigano E penso che Lucas abbia fatto Genitorialità Bravo Non c'è nulla di tutto questo Goditi la libertà Benissimo Qui c'è Il capo sta chiamando Parliamo Mila non si sta presentando a lavoro Se perderà troppi giorni Ma amore Eh no Eh no Madonna Non ce la posso fare Severa Severa Urla contro Deve capire Ragazzi Ma noi ci siamo presi un giorno di vacanza Senti Vai al lavoro Che ti devo dire Ce l'avevamo presi un giorno di vacanza Ragazzi Uffa Qui sta succedendo L'impossibile In tutto questo Scusati Prendi in giro per il viso Ma no Ma perché sei così Chiedi della sua giornata Aiuto Cosa sta facendo No vabbè Lui ha rotto Il No Devi essere Dai Sei una merda Comunque Conforta Ok Lui è triste Perché è triste Trascurato Per un genitore assente Amore ma Cioè devi capire che bisogna andare anche a lavorare Inizia da zero In tutto questo Lui ha bisogno di dormire Iniziamo da zero e speriamo che non rompa Stanchezza Madonna 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 Allora facciamo una cosa amore Mandalo a dormire Legge Lucas per farlo addormentare Povero Gunter ragazzi Poverissimo Cioè un giorno di mila lavoro E ciaone Non si riprendono più Gunter deve fare da papà Perché questo papà manca Lui cosa sta facendo In tutto questo Ok sta andando anche al bagno Perfetto Ma possiamo gioca Costruisci Vediamo cosa fa Questo tavolo ancora non l'avevo utilizzato Gunter sta andando a dormire Ovviamente Ma non c'è Elsa Ah è qui Vediamo se Se vuole partecipare Racconta la scena più divertente Ok lei se ne deve andare Benissimo Bravissimo Allora Caro il mio Wolfgang Fa i compiti a questo punto Ma sederti Qui no eh Per fare i compiti E scusa Cosa Stiamo aumentando La responsabilità Non so Cosa aumenta In realtà Ma lei a che ora torna Da lavoro Alle 23 Niente di meno Sono solo le 21 In tutto questo Lui sta facendo i compiti Speriamo aumenti qualcosa Si è svegliato Si è svegliato Ha avuto un incubo Ma perché Lucas ha molta fame Amore te ne devi occupare tu Responsabilità No vabbè Ciao Lo so che non è compito Lo so che non è compito tuo Ma sarebbe compito di tua madre Ma qua Dai cibo a Lucas Patatine Ebbè È pur sempre un adolescente Non può sapere Di cosa ha bisogno Il fratello La responsabilità La responsabilità Di Lucas Sta scendendo Enormemente Wolfgang Invece È ancora sveglio Alle 10 Lei non vuole Tornare a casa Da lavoro Speriamo mangi Beh Visto che ti trovi Madonna Lui è distrutto Raga Fai un pasto veloce Anche tu Che ti devo dire Fai un pasto veloce Con lo yogurt Mangiati qualcosa Eh sì amore Tu hai avuto un incubo Ma non hai fame Stanchezza E ho capito Ma anche noi Dobbiamo mangiare Ecco Alla buon'ora Allora Tra l'altro Guadagni anche pochissimo Leggi a Lucas Per far addormentare Ragazzi Gestire i figli Quando lavorano Però Diventa molto Molto più difficile Quindi diciamo che Questo game pack È un po' a sé Bravo Benissimo Lui Ok Sta aumentando Il divertimento Lei Ha messo a letto Lui E sta andando a dormire Ovviamente Facciamo andare a dormire Anche Gunter Vai Così Va molto più veloce Il Fattaccio Qui Aumenta la velocità Al massimo Per fortuna Così passa la notte Vediamo come si svegliano E quello è il problema Principale Allora Lei è sveglia Quindi Cioè nel senso È quasi sveglia Quindi io direi Che tesoro Ti devi dare Una ripulita Grandiosa La casa C'è Lo schifo Ovunque Cosa sta facendo? Ma che mangia cereali? Servi colazione Servi la colazione Frittelle Cucina una cavolo Di colazione Ai tuoi figli Oh signore Gunter Allora amore Io direi che tu ti puoi Svegliare E farti doccia E No Che bagno con la schiuma Ti fai la doccia E qua Ti fai la doccia Ha cucinato lei? Tra l'altro Lei anche oggi Va al lavoro Mi sa O forse Il giorno di pausa Che ci siamo presi Fra due giorni Sì Perché ci siamo presi Il La pausa Credo Ok Lui si è fatto anche la doccia Prendi una porzione Gunter andrà a scuola Fra circa un'ora Lo so Lui deve mangiare Quindi Ok Sta già venendo a prendersi una porzione Così magari mangiano Oh signore Poi tu devi riporre questo Assolutamente Lei Dovrebbe Si cucinare Per essere promossa In realtà Ma ovviamente Wolfgang Deve dare Convinci che mostre esistono Che è uno stronzo Wolfgang E quindi Sarà bello Cattivello Ancora con Gunter Non ce la possono fare Loro non avranno Un bel rapporto Ragazzi E scende anche L'empatia Di Wolfgang Allora tesoro Allora tesoro Tu ripulisci qua Dovreste andare a scuola In tutto questo Eh C'è arrivato proprio l'orario Anche tu Gunter Io però Si si va Tanto domani Non vanno Quindi Il giorno dopo Nel prossimo episodio Non andranno Quindi faremo Magari Il progetto scolastico Sicuramente Di Gunter E Cercheremo di aumentare Il Oddio Si è bloccato Raga Si è bloccato Quindi vi dico Già Cercheremo di aumentare La Responsabilità Di Wolfgang Che come potete vedere Potrebbe prendere Il tratto Gunter sta andando a scuola Si trova a scuola Perfetto E faremo il progetto Scolastico Appunto Di Gunter Ripuliamo Perché la casa È veramente Uno schifo Raga Ripulisci Ripulisci Cioè lui Ha fatto pasticci ovunque Lucas Tra l'altro Deve mangiare Si sta per svegliare Quindi io direi Di Visto che ti trovi Dai cibo a Lucas Cereali Riponi E devi mettere Lucas qui Lucas ha molta fame Ricorda di nutrirlo Altrimenti verranno Gli assistenti Sociali Quindi diamoci Sta Sto cibo a Lucas E poi ci Lasciamo Allora ragazzi Come al solito Vi dico nei commenti Fatemi sapere Cosa ne pensate Se appunto Volete che continuo Questa storia Oppure no Ovviamente ragazzi Ora sono un po' Diciamo Impallato Tra questa storia Il grande fratello E quindi Ho leggermente Abbandonato The Sims 4 Vita in città Che comunque è arrivato Quasi a 45 episodi Se non erro Ma ricomincerò Comunque metterò Un episodio ogni tanto Ne deve uscire Mi sa No Forse riuscirò Già a far uscire L'episodio Che avevo già Registrato E ovviamente Grande fratello Perché comunque Quello sapete È una È una serie Che va Che ha molto successo Ma soprattutto Che è limitata Perché prima o poi Finisce Nel senso Non può continuare E io voglio sapere Tutto nei commenti E tra l'altro Io sto continuando Come avete visto La mia Diciamo Esperienza Come Youtuber Proprio di video Eccetera eccetera Non di gameplay Quindi magari Voglio comunque Provarci E continuare Anche su Da quel punto di vista Quindi niente ragazzi Vi mando un bacio Dal vostro Daniele Danzu Come al solito Fatemi sapere Cosa ne pensate E mettete un like Iscrivetevi alla pagina Facebook Mandatemi l'amicizia Su Facebook Eccetera eccetera Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti